ciao popolo di youtube quello che state vedendo è il bellissimo motore dell'alfa romeo 156 1800 16 valvole in twist park quella con la doppia candela allora la macchina che va perfetto a un'unica pecca non tiene bene il minimo è un po irregolare se in accelerazione sia in decelerazione il funzionamento non è perfetto la macchina attualmente 120 mila chilometri allora cosa andremo a fare per risolvere questo problema intanto sono sto già inquadrando il componente che sarebbe questo che indico col dito che è la varvola a farfalla che molto probabilmente sarà bella sudicia ma adesso andremo a svitare con un semplice cacciavitino questo condotto staccheremo il flusso dei recuperi di gas dell'olio e dopo di che con un prodotto apposta che vi farò vedere faremo la la pulizia è un'operazione abbastanza semplice una cosa che vi ricordo ad esempio l'ho fatta in garage e mai farla in spazi troppo aperti o se c'è troppo vento perché lavora a farfalla risucchia tutta l'aria mi entra della sporcizia e non avrebbe molto senso niente adesso smonto poi vi faccio vedere com'è le condizioni della valvola a farfalla come potete vedere quella che sto inquadrando è la valvola a farfalla della 156 che tutto sommato è abbastanza pulita però guardate i bordi vedete i bordi tutto col nero lì ecco tutto col nero lì causa a volte delle irregolarità del minimo e con un prodotto apposta noi lo risolveremo vi faccio vedere il prodotto intanto quadro il motore scusate se trema un po l'immagine ma c'è il telefono in mano io ho preso un sonax di un'azienda tedesca è un prodotto specifico uno sgrassatore un pulitore per per sistemi di iniezione carburatori valvole a farfalla eccetera c'è anche scritto carburatore detergente per valvole a farfalla ma in linea di massima sono tutti sgrassatori che hanno una una qualità particolare che è quella di evaporare velocemente che poi è la cosa principale in modo che non vengano aspirati dei liquidi troppi liquidi quindi noi adesso andremo a fare una prima spruzzata a motore spento dopodiché accenderò il motore e con questa che è la leva del gas questa qua vedete andrò accelerare spruzzo tolgo spruzzo tolgo spruzzo tolgo spruzzo tolgo finché non sarà pulita non è un'operazione che deve essere eccessiva ecco deve essere un'operazione tranquilla anche perché se non riusciamo a risolvere il problema in maniera veloce con questo sistema bisogna proprio smontare tutto il blocco e fare una pulizia più accurata niente comincio con la pulizia dopo vi farò vedere il risultato allora come potete vedere ora la valvola farfalla decisamente più pulita di prima c'è ancora un po di nero ma quello onestamente non è niente anche perché questa è comunque sia un'opera di manutenzione la pulizia vera e propria della valvola farfalla si fa smontando tutto il corpo farfallato quindi questo ma niente ripeto si fa quando ci abbiamo qualche piccolo problema di minimo e insomma ogni toto di chilometri fa bene farlo anche perché un'operazione molto semplice i prodotti sono a buonissimo mercato niente adesso si rimonta la fascetta questa qua si rimonta il recupero io ho anche staccato la bobina e la macchina è pronta e a partire a rifare i suoi tantissimi chilometri vi ricordo che l'alfa romea 156 3.999 16 valvole twist park miliotto di cilindrata credetemi ancora veramente un'ottima macchina che va decisamente bene consumi chi ha un po però io direi che ci stiamo no comunque se riguardiamo a modino e vedo di farvi entrare un po meglio vedete ancora la c'è qualcosina di nero quelli sono e purtroppo quelle cose che si fanno solamente smontando il corpo farfallato grazie a tutti e se vi è piaciuto il video ovviamente lasciato like magari condividetelo con chi ha l'alfa romeo e presenta problemi di minimo vuole semplicemente fare una manutenzione curata ciao a tutti